In tantissime equazioni della fisica compare sempre una grandezza molto strana, e per la verità, che è la massa. Siamo tutti convinti di sapere davvero che cos'è la massa, ma alla fine la massa, davvero, che cos'è? Ciao ragazzi, benvenuti a un altro video su Zero G, siamo qui di nuovo all'OFT92 per parlare della massa. Allora, fate attenzione perché in fisica ci sono spesso delle grandezze che si danno molto per scontate. Cioè, la massa che cos'è? Ma sì, dai, lo sappiamo tutti che cos'è la massa, e per la verità no, non è una cosa così ovvia e così banale. Allora, cerco oggi di dirvi un po' che cos'è la massa. Allora, la massa intanto, vabbè, è quella grandezza che si misura in chilogrammi, tendenzialmente, se state utilizzando le unità di misura del sistema internazionale, se no poi potete utilizzare tantissime altre unità di misura, ma in fisica e negli esercizi di fisica si usano sempre i chilogrammi, tendenzialmente. Ma che cos'è davvero la massa? Allora, c'è una definizione grezza e una definizione un po' più raffinata e sofisticata. Provo a darvele tutte e due e cominciamo da quella più grezza. Che cos'è la massa nella sua definizione un po' più così, terra-terra, diciamo? Allora, la massa sarebbe praticamente una grandezza che misura un po' la quantità di materia che è contenuta dentro i corpi. Cioè, se voi volete sapere quant'è la massa di questa penna, beh, dovete sapere praticamente quanta materia c'è qua dentro. Ok? Quindi la massa in chilogrammi è quella cosa che vi sta dicendo più o meno quanta materia è contenuta all'interno dei corpi. È quella cosa che Newton nel suo libro dei principi matematici della filosofia naturale, quello fondamentalissimo, dove stanno scritte praticamente tutte le tre leggi della dinamica e non solo, c'è un mondo di fisica lì dentro. Newton definisce la massa come la quantità di materia che è data dal prodotto della densità per il volume. Che cosa ci sta dicendo praticamente Newton? Beh, ci sta dando praticamente la definizione di massa che è ricavata dalla formula famosissima della densità, quella roba che vi insegnano tutti quanti alle elementari. Nel senso che, se vi ricordate la definizione di densità, la densità è massa fratto volume. Fatte la formula inversa e vi viene fuori che la massa è densità per volume. E Newton ci sta parlando di questo fondamentalmente. Ma quindi c'è un concetto di massa relativo alla quantità di materia che è contenuta all'interno dei corpi. Ma in realtà c'è un altro modo di definire la massa, ed è quella cosa che si chiama massa inerziale perlomeno, ed è una definizione per cui la massa è quella grandezza che misura l'inerzia dei corpi. Allora, se pensate al primo principio, al principio di inerzia, quindi la prima legge della dinamica, vi si dice che i corpi, quando sono, diciamo, soggetti ad una forza risultante uguale a zero, mantengono il proprio stato di moto, dove le possibilità sono due, o rimangono inquiete oppure continuano a muoversi di moto rettiline uniforme. Allora, questa caratteristica che i corpi hanno di perseverare nel loro stato di quiete o di perseverare invece nel loro stato di moto rettiline uniforme è quella cosa che in fisica si chiama inerzia. La massa è praticamente la misura dell'inerzia, cioè quando voi dite 5 kg, 50 kg, 75 kg, state quantificando l'inerzia dei corpi, cioè la loro capacità di mantenere il loro stato di moto. È chiaro che più è alto il valore della massa, proprio in valore numerico, più è alta l'inerzia che quei corpi hanno, cioè più quei corpi tenderanno a mantenere il loro stato di moto e più sarà difficile cambiare lo stato di moto di quei corpi. Quindi un oggetto che è, per esempio, una massa molto piccola, come potrebbe essere questa penna qua, beh, è molto facile cambiare il suo stato di moto, perché adesso questa penna è ferma, ok? E lei sta mantenendo il suo stato di moto, cioè il suo stato di quiete. Ma quanto mi ci va a cambiare lo stato di moto di questa penna? Beh, niente, faccio così, voilà, abbiamo già fatto. Perché è così facile? Perché la massa di questa penna è poca, l'inerzia è poca, cioè l'opposizione che praticamente questa penna sta cercando di fare al mio tentativo di farle variare lo stato di moto, è davvero poco, ok? Cioè lei si oppone poco alle variazioni del suo stato di moto perché ha una piccola massa. Ma se io cercassi di fare la stessa cosa con un sasso grosso così, ok, che magari è 150 kg, ma col cavolo che lo prendo e lo sollevo così, con questa semplicità, come ho fatto con la penna, perché col masso è molto più difficile? Perché ha una massa molto più alta, quindi ha un'inerzia molto più alta, e quindi il masso, a differenza della penna, ha una capacità di mantenere il suo stato di moto decisamente più elevata. Quindi è più difficile, per chi agisce dall'esterno, esercitare una forza che possa modificare lo stato di moto di un oggetto molto massivo, ok? Quindi la massa, intesa come massa inerziale, significa questo. È la quantità, diciamo, è il modo che abbiamo per dare un numero a questa grandezza che è l'inerzia. Poi si può parlare di altri concetti di massa. C'è la massa gravitazionale, c'è la massa relativistica che può cambiare in base allo stato di moto dei corpi, ma lì andiamo su altri discorsi un po' più sofisticati di cui magari parleremo in altri video. Per il momento invece ci fermiamo qua, quindi con questi due concetti, massa come quantità di materia, massa come misura dell'inerzia, per il momento ci basta questo. Per cui io vi ringrazio per l'attenzione, dall'OFT92 anche per questo video è tutto. Io vi esorto ancora a seguirmi su 0G per tutti i video di fisica e vi esorto anche a consultare il mio sito internet che è www.alessandrocatania-0G.com dove potete trovare tutte le informazioni che riguardano me, qualsiasi informazione sul mio lavoro, l'elenco di tutti i video che sono caricati su YouTube e non solo, trovate anche per esempio tutto l'elenco delle lezioni che ho scritto per il sito di UMAT e che vi consiglio di andare a leggere perché sono scritto molto bene. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.